Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale di Pippo Quarto. In questo video andremo a conoscere una donna di grande fascino, Justine Elizabeth Matera, nata in America ma ormai italiana acquisita, anche se la sua famiglia era originaria proprio del bel paese. Dopo la laurea in letteratura italiana e inglese alla Stanford University, nel 1994 si trasferisce a Firenze per specializzarsi in lingua e letteratura italiana e storia dell'arte. Per mantenersi inizia a lavorare come modella e cubista, ed è in una discoteca toscana che viene notata dal produttore e DJ Giovannelli, e fu così che tra i due iniziò una collaborazione professionale. Anche se la svolta per la bella Justine avvenne una volta trasferitasi a Milano, e precisamente quando conobbe Paolo Limiti, il quale ne fu subito colpito vista la sua somiglianza con Marilyn Monroe. Questa somiglianza, unita al suo modo di fare unico e al suo italiano ancora incerto, lo spinge a volerla accanto a sé nelle sue trasmissioni televisive. Così dal 1996 al 2002, la bella Justine diventa una presenza fissa nel programma Ci vediamo in TV, dove il pubblico italiano inizia a conoscerla. La collaborazione professionale si trasforma presto in qualcosa di più profondo, e i due iniziano una relazione che sfocia nel matrimonio nel 2000. Justine aveva 29 anni mentre Paolo ne aveva più di 60, un divario di età che suscitò non poche polemiche e perplessità nell'ambiente televisivo e tra il pubblico. Nonostante il profondo legame affettivo, la differenza di visioni riguardo al futuro della loro relazione inizia a farsi sentire. Justine desiderava diventare madre, ma limiti consapevole della sua età avanzata, non si sentiva pronto a rivestire il ruolo di padre. Questa divergenza li porta dopo solo due anni di matrimonio a separarsi consensualmente nel 2002. Nonostante la fine del matrimonio i due sono rimasti legati da una sincera amicizia continuando a supportarsi reciprocamente. Justine ha sempre espresso una profonda gratitudine verso Paolo Limiti, riconoscendo quanto lui abbia influito sulla sua carriera e sulla sua vita in Italia. Ragazzuoli belli anche questo video conoscitivo sta lentamente volgendo al termine, e spero lo abbiate trovato interessante, anche se non ho dubbi per quanto riguarda il vostro apprezzamento per Justine. Grazie della visione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti.